Per la semina dell'aglio, utilizzare bulbi, sodi e carnosi, acquistati presso vivai o centri di giardinaggio. Separare gli spicchi e tenere da parte quelli più grossi. Piantare gli spicchi con l'apice rivolto verso l'alto, alla profondità di circa 4 centimetri e distanti fra loro 15-20 centimetri. L'aglio ama una posizione soleggiata e terreno ricco e sciolto. Seminare l'aglio in autunno per raccoglierlo l'estate successiva. In autunno, possiamo mettere a dimora le piantine di cipolla bianca. Estraiamole con delicatezza dal contenitore alveolare. Interiamole a 3-4 centimetri di profondità e distanti fra loro circa 20 centimetri. La cipolla ama una posizione soleggiata. Per ottenere una crescita più rapida e una migliore qualità delle foglie, ebbene, nel caso di semina a spaglio, seminare molto fitto. In autunno, quando la temperatura scende al di sotto dei 23 gradi, è possibile seminare lo spinaccio per il raccolto primaverile. Gli spinaci amano terreno ricco, ben drenato, fresco ed umido. Meglio se l'aiuola è rialzata. Grazie. 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 Grazie.